Vediamo come realizzare questo effetto utilizzando l'applicazione ClipDrop. Passerà a scattare un selfie davanti a un muro bianco, possibilmente. Aprire l'applicazione ClipDrop, cliccare su Relight, caricare l'immagine appena scattata e iniziare a modificare i parametri. Potrai cambiare il colore delle luci, la posizione, aggiungere eventualmente altre, l'intensità. Quando sarai pronto potrai controllare il prima e il dopo. Fare l'export e il gioco è fatto. Infatti non dovrai utilizzare nessuna luce e quindi potrai farlo direttamente dall'applicazione. Molto utile ad esempio se vuoi cambiare la tua immagine del profilo e renderla migliore.